Ciao a tutti, vediamo come poter guardare film su Netflix, Prime Video, eccetera, non disponibili in Italia. In questo caso vedete che sto cercando 30 Rock, che è uno dei più classici che magari potrei voler vedere, ma che non è disponibile in Italia. Cosa posso fare? Mi basterebbe connettermi con NordVPN in America. NordVPN è il servizio che trovate qua, è una VPN, quindi ci permette di collegarci ad altri paesi, e quindi far passare la nostra richiesta su Netflix e altri siti come se noi fossimo effettivamente negli Stati Uniti, in Giappone per guardare anime e via discorrendo. Sotto in descrizione trovate il link a NordVPN e vedete che con il link che avete sotto in descrizione avete il 60% di sconto, di base per due anni è arrivata a pagare 2,89€ al mese, io la uso ormai da parecchi anni, al di là del Netflix, Prime Video, eccetera, anche a livello sicurezza vi cripte dati, vi permette di non farvi tracciare su internet, quindi c'è tutta quella parte che è molto comoda, ma arriviamo su Netflix, quindi io voglio vedere 30 Rock come faccio, compro NordVPN, mi scarico il programma, eccetera, arrivo qua, poi se avete bisogno di una guida su NordVPN nello specifico chiedetemi sotto nei commenti, mi basta una volta che sono qua connettermi a una zona degli Stati Uniti, in questo caso mi connetto a Miami, ecco qua, vedete sono connesso, connected to United States, se adesso vado ad aggiornare la pagina, incredibilmente, guardate un po', adesso è comparso, è anche Seinfeld che non era disponibile, quindi se io adesso premo e vado qua, noterete come posso vedere 30 Rock, cosa che prima non era assolutamente possibile, questo è quanto, se avete bisogno di altre guide su Netflix, eccetera, lasciate sotto un commento, ciao ciao!